Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi faremo un video abbastanza breve, farò un video abbastanza breve, perché è un video comunicazione, infatti vi voglio ringraziare tantissimo perché siamo arrivati a più di 1000 iscritti, siamo a 1191 ed è incredibile perché eravamo a 1000 un mese fa e siamo già a 1191 in un mese, cioè mi sto stupendo tantissimo della velocità con la quale voi aumentate e mi rendete tantissimo felice, veramente, vi ringrazio tantissimo ad uno ad uno e per ringraziarvi o comunque in generale per fare un video un pochino diverso da solito e che non ho mai fatto, volevo fare un video domande e risposte in cui appunto voi vi imponete delle domande e io appunto vi risponderò con un video. Quindi volevo dire, se vi interessa questo tipo di video, se appunto vi interessa farmi delle domande, sapere le mie risposte, scrivetemi qualche domanda qua sotto nei commenti sotto a questo video oppure nel mio profilo Instagram che adesso vi linkerò sotto. Se appunto vi interessa seguirmi anche su un'altra piattaforma che non sia YouTube perché non ho pagine Facebook, non mi piace l'idea, preferisco appunto un profilo Instagram, preferisco utilizzare quello anche per avere un contatto maggiore con voi appunto in caso ci fossero problematiche, non posso fare video, vi avviso lì oppure semplicemente per condividere qualcosa di un po' più giornaliero con delle foto appunto, vi rimando al link appunto del mio profilo Instagram se vi interessa appunto seguitemi anche lì. E niente ragazzi, spero appunto che l'idea vi piaccia, ditemelo sotto nei commenti, se non vi interessa non lo faccio, non è un problema, ma non vi preoccupate, comunque vi lascio tutti i link appunto, il link del mio profilo Instagram e niente, spero appunto che l'idea vi piaccia, vi ringrazio ancora tantissimo per le numerose iscrizioni che appunto stanno venendo sul mio canale, appunto vi ringrazio a uno a uno perché è una grande soddisfazione per me insomma sapere che comunque i contenuti che trasmetto piacciono, comunque sono apprezzati e servono a qualcosa, perché comunque quello che mi piace è condividere qualcosa che però possa servire anche a voi, quindi sono contentissima di questo e vi ringrazio ancora tantissimo. Niente ragazzi, spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto, rispondetemi appunto, ditemi cosa ne pensate a riguardo dell'idea del video appunto sulle domande e risposte e niente, ci vediamo alla prossima, ciao!